ciao a tutti benvenuti e ben ritornati in un nuovo video asmra 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 è il mio terzo video asmra e lo so è passato un sacco di tempo e mi dispiace è un casino però ho avuto tanto da fare sono giorni impegnativi e anche psicologicamente ormai io già faccio più voglio fare le mie cose cioè ho fatto effettivamente una vacanza a Dubai cos'era? si Pasqua però andiamo cioè non viaggio da Pasqua io non so come facciate voi veramente io non ce la faccio già più datemi il mare, datemi l'estate detto questo voi come state? non ve lo chiedo mai nei video normali però nei video asmra mi viene sempre da essere un po' più gentile non saprei allora come vedete si giusto come vedete siete nella casa nuova lo so è umile come casa non abbiamo voluto esagerare per ora visto che è la nostra prima casa comprata magari tra un po' di anni riusciremo a comprare una casa un po' più bella però per ora ci accontentiamo comunque secondo me non è male a mio testo parere quindi sì per ora per ora va bene così e sono troppo contenta di mostrare ve l'appesto penso farò un home tour ma non in asmara perchè? non si può fare in asmara cioè come si fa? non in asmara comunque no vi farò un vlog quindi allora perdonate anche le mie unghie sono andata a togliermi il gel perchè mi stavo un po' rovinando le unghie quindi ho deciso di farle un po' respirare in questi giorni quindi le vedete ne ho state le mie e comunque trovo che siano molto belle anche le mie unghie ho geneticamente dei miei capelli e delle belle unghie quindi sì oggi in questo video asmara e volevo fare un po' di mozza e farvi un haul delle cose che ho comprato oggi oggi sono uscita un po' a sfagarmi a fare un po' anche di fotine per Instagram e che vedete se vedete su Instagram e anzi anche su TikTok mi trovate sempre con questo canale che stico su Youtube e ho fatto un po' delle fotine che vedo la dimostrarmi secondo me super 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 carine e e poi ho mi sono preso un po' il tempo di fare un salto in gioielleria nella mia gioielleria di fiducia io ho preso due o tre cosine giusto proprio per un po' di shopping terapia che non fa mai male e adesso vi faccio vedere quello che ho preso ho preso un anello un orologio e due paio di orecchini semplici semplici tranquilli quindi ve li mostro subito allora cominciamo ad averlo quasi tutte le cose sono argento che ho oro bianco argento no oro bianco e proprio sono anche una cosa oro per variare allora il primo che vi faccio vedere è perché faccio un po' di aspra è Sì, sì. di questo non l'ho ancora indossato quindi ho tenuto la scatolina per gli orecchini invece ne ho già provati ho già messo via ho già messo via un'altra parte delle scatoline quindi perdonatemi se non ve le faccio vedere però vedatevi non vi mentirei mai lo sapete che per me l'onestà è tutto nei vostri confronti quindi sono dei gioielli sono dei gioielli dei diamanti allora è proprio un anellino uno spruzzo allora ve lo faccio vedere meglio qui questo è un anellino singolo adesso lo sfido anche ma da davanti sembra doppio e c'è un piccolo anellino una fedina sotto di diamantini piccoli piccoli e sopra ci sono dei diamanti leggermente più grandi gialli quattro poi c'è una specie di catenella piccole una catenella oro bianco e lo sfido magari faccio ancora un po' di asbre con la scatolina lo faccio vedere meglio qui dietro come vedete sono unite le due pacche quindi è unico e l'ho preso per il medio mi mancava un anello del genere e sapete che i quali anelli sono molto molto selettiva una collezione molto grande però sono molto selettiva e sapete anche che non piacciono tutti i tipi di genielle ad esempio i bracciali io non li indosso mai perché personalmente li trovo un po' pacchiani però non hanno i propri gusti per l'umore del genere quindi qui c'è appunto eh no aspettate però forse non devo dire che ho collaborato con ho collaborato con quando l'altro non posso non devo dire taglia 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 ok questo allora questo appunto è il l'anello sulle mie dita come sapete le dita sono molto fusolate altissime agli anelli è per questo che li adoro anche perché mi risaltano secondo me tanto ed è un anello un po' da tutti i giorni nulla di pretenzioso nulla di troppo esagerato io in realtà vi ho fatto provare anche una vetina identica a questa da mettere anche a sopra ed era proprio uno spizio fatemelo dire oggi mi sono un po' trattenuta un po' di albero tu rilassati a non lo vi ho portato avessi tempo a fare anche BBG ah, sembrava perché obiettivamente sono molto brava però davvero, davvero io la vorrei dire al giorno quindi non mi trovo di prendermi una vacanzia voi avete perdonato le vacanze per quest'estate? noi sicuramente volevamo fare un'altra settimana tipo in montagna sapete, in quelle spa 5 stelle molto carine perché voglio proprio staccare e mi serve tanto tempo e poi magari facevamo un salto alle mattive non saprei sì, mattive stanno superando da nessuna parte quindi ci accontentiamo in queste situazioni ci si fa accontentare ok è arrivato ok poi vi faccio vedere gli orecchieri portiamola a quelli più piccolini mi dispiace che non è la custodia non ho scusate il la sua scatolina allora li faccio vedere dalla volta ovviamente questi sono Miluna e sono che questo è uno sfizio insomma piccolini carini, elegantini per un giro in centro per un cocktail uno spritz e sono questi come vedete qui sopra abbiamo un brillantino veramente molto semplice ok e qui sotto invece c'è una perla una perlina questa lulla lulla di chia non riesco a farvelo vedere in massato però vedete le dimensioni sono questa lulla di chia lulla di chia mi piacciono tanto mi piacciono proprio tanto mi piacciono proprio tanto le perle sono un altro mio tipo luccio e quindi sì questa è l'altra cosa qui ci sono vi faccio vedere entrambi gli orecchini appunto sono oro bianco con un diamantino e una delle perle una perla eccole qua veramente secondo me carini e adatti a una maschina in centro o qualcosa del genere non troppo impegnativi qualcosa di sì semplice modesto nulla di chia c'era anche un anellino che mi piaceva tantissimo però non volevo spendere troppo oggi era meraviglioso era abbastanza grosso uno zaffiro con intorno dei diamanti ma era un po' particolare era a forma di triangolo che è una cosa un po' particolare molto molto carino magari la prenderò per festeggiare qualcosina un traguardo su instagram siamo quasi a 500.000 quindi magari la prenderò per festeggiare vedremo un po' particolare un po' particolare e la prenderò per festeggiare questi io li amo sono super trendy allora questi io li amo sono super trendy sono un po' più super attivi un po' più da tutti i giorni diciamo così proprio da lavoro apprazzo in centro putine, carine, eccetera veramente io cioè dipendente da questi orecchini infatti saranno i miei nuovi preferiti sono scoperte in ogni caso lo vedete qui abbiamo un cerchio in oro e poi una perla ovviamente vera meravigliosa non so se è così li amo veramente me li vedrete indosso spessissimo spessissimo troppo 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 belli troppo troppo belli troppo belli troppo belli ciao perché carini io è pazzesco sono bianconi il mio acquisto preferito di oggi l'altro lo sconto non li amo li amo adoro che nella mia cegneria di fiducia ci siano sia cose classiche sia cose un po' più moderne un po' più magari giovanili cegneria di tendenza eccetera la migliore per questi colori tra l'altro la mia gioielleria ho visto qui ce l'ho scoperta perché ha inviato dei gioielli a Chiara Ferrani e mi sono data se ce li a Chiara Ferrani non posso non averceli anch'io e ce li uati subito non ho sbagliato un colpo e con i ciechi a Chiara N lì ha un po' già non potete capire non potete capire quindi magari per dirvi posso usare anche questo nel primo buco e questo nel secondo sopra ha un bello mix di perle un più elegante un po' più superazzina mi adoro l'elmo 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 fine ho preso un orologino molto 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 classico questo è proprio il mio lato un pochino più rigidello un pochino più eleganza classica perchè io ovviamente seguo la moda la moda rimango sempre un pochino sempre a me stessa non mi piace trasformare il mio stile con le mode quindi mi manco un pochino sempre a vedere a me stessa questi pezzi di gioielleria che possono piacere a tutti sicuramente però entrano sempre di modo io ve lo dico non possono mai quindi mi faccio un po' di drogi anche anche qui 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 trent qui 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 ok, com'è dieta, ve lo faccio vedere che sta, è molto, che bel tapping non ti hai gioielli nuovi perché mi dite che non faccio abbastanza morire e non mi ricordo come si chiama questo suono beh vabbè questo, questo delle unghie non c'ho troppo qualcosa qualcosa di integrato o qualcosa di un altro coloro e come vedete nell'argento ovviamente è in oro bianco e come vedete questo quadrante rotondo con attorno questo fantasia qui è molto classico con i numeri romani vi faccio vedere che indosso si fa la scotch le bozze così vedete, molto classico io adoro questi pezzi perché perché un orologio diciamo che adesso ha perso un po' la sua funzione iniziale cioè quello di dircelora è un pezzo con cui si definisce la propria identità si vuole mostrare agli altri la propria eleganza, la rapinatezza, il proprio stile si è un pezzo con un altro ma è certo che non lo uso per per guardarci l'ora però rimane sempre un oggetto classico quindi questo questo è il mio ultimo questino c'è di Alleria io quindi già non ho comprato veramente nulla di chi perché ripeto aspetto magari una occasione importante per farmi un regalino un po' più importante o perché no farmelo regalare con il mio ragazzo così magari per il compleanno lo saprei come aspra come aspra quindi si fatemi sapere nei commenti qual è il vostro pezzo preferito come l'indosseresta quale è stato il vostro ultimo questo in gioielleria non mi rendete curiosa magari prendo ispirazione per qualcosa io nulla si nulla io adesso faccio un po' di aspra magari con questo un po' con la scatola dell'orologio un po' con la scatola dell'orologio e poi chiudo il video qui oggi c'era un silenzio incredibile che cosa ne pensate della della mia postazione video alla fine piena sono contenta di cosa è venuto si può prendere tutto lo so lo so che Sì 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 Sì